Se noi, ma prima o poi lo faccio, un corso di lingua cuneiforme, noi leggessimo le tavolette, fra poco vado in pensione, quindi ho molto tempo, due, tre, anni, quattro, adesso vediamo cosa decideranno su di me, ma dopo i settant'anni, nelle università pontifice ti danno solo alcuni corsi secondari e se mi garba resto e se no, vengo a Pordenone e mi godo la città. E allora faremo i corsi anche di lingua cuneiforme, per chi vuole. Leggendo questi testi, noi ci accorgiamo che la forma letteraria è estremamente importante. Per noi la forma letteraria è poco importante. Basta vedere come si scrivono i documenti, come si scrivono i referti medici. Una volta mi sono impuntato e ho rispedito indietro il referto alla clinica universitaria di Udine e gli ho detto «Ci sono degli errori». Me lo rimandano apparentemente corretto. Dico, non vi siete accorti che avete sbagliato anche la data. Invece che 2003 avete scritto 1993. Torna per la terza volta, senza firma del medico. Per avere un referto decente. Io sono ancora vivo, ma loro devono aver avuto un po' di mal di schiena perché gli ho mandato tante di quelle maledizioni. Dico, ma è mai possibile? Il medico che mi fa un itinerario universitario impegnativissimo come gli ingegneri anzi, il medico di più e hanno queste dimostrazioni di analfabetismo. Boh! E sono bravi, sono veramente bravi però l'estensione o la stesura meglio di un documento è un disastro. Nel mondo antico avevano molta più cura perché se no lo scriba perché quelli non andavano tanto per il sottile. E quindi noi abbiamo queste forme letterarie a cui bisogna assolutamente prestare molta attenzione. Cosa scopriamo? Che esistono tre modi di formulare le leggi e questi modi sono legati alla civiltà. Le leggi più arcaiche quelle che sono collocabili in epoche nomadiche o seminomadiche hanno la formulazione del caso quando succede questo se succede questo virgola che allora non c'era allora e si dà la soluzione al caso. Perciò per il giudice era facile veniva presentata la situazione lui comparava la situazione con la legge questa situazione rientra in questo caso sì bene allora la soluzione giuridica ce l'aveva già in mano non doveva scervellarsi successivamente in un periodo temporale successivo quando la gente incominciava a sedentarizzarsi allora c'era una formulazione partecipiale non più quando succede questo se succede questo allora non più questa formula ma il facente questa cosa allora sarà punito così il facente noi in italiano non adoperiamo diciamo colui che fa colui che fa questa cosa sarà punito così e solo nel terzo ultimo stadio ma noi abbiamo solo due testimonianze il nostro codice del decalogo e la protesta di innocenza dell'anima davanti a Horus in Egitto dove l'anima dice alla divinità io mi sono comportato bene qui 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 ma la formulazione apodittica cioè non fare questo non c'è nessuna punizione fai questo e se non lo faccio non c'è nessuna punizione questo viene chiamato comandamento apodittico la formulazione apodittica non la troviamo nei codici mesopotamici nei codici mesopotamici troviamo la formulazione casistica e la formulazione participiale e basta nel codice invece ebraici c'è anche la formula apodittica e qualche cosa di simile la troviamo nella protesta di innocenza del defunto in Egitto questi sono i dati ma sono dati importanti perché quando noi leggiamo un testo biblico ci accorgiamo che molto spesso voi trovate le formulazioni una infilata dentro all'altra per cui il biblista dice alt qui noi abbiamo una contaminazione testuale cioè il vecchio codice il nuovo codice sono stati mescolati insieme e voi dite ma voi biblisti siete maghi no non siamo maghi conosciamo bene queste forme letterarie niente di più e quindi ci accorgiamo subito quando c'è una commistione fra un codice antico e un codice recente andate alla linea 101 alla linea 101 siamo in esodo capitolo 21 cioè il capitolo successivo al decalogo quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo e gli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero senza riscatto è una formula casuistica presenta un caso e qui presenta altri casi dentro al caso generale se è entrato solo uscirà solo se era coniugato sua moglie se ne andrà con lui se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo ma se lo schiavo dice io sono affezionato il mio padrone a mia moglie e i miei figli non voglio andarmene in libertà allora il padrone lo condurrà davanti a Dio lo farà costare al battente o allo stipite della porta gli forerà l'orecchio con la lesina e porterà l'orecchino il maschietto con l'orecchino è lo schiavo che ha scelto di rimanere tale per tutta la vita non guardate gli uomini con gli orecchini con questo criterio quelli sarà suo schiavo per sempre sono leggi casistiche sono leggi antichissime queste sempre nel capitolo 21 del libro dell'esodo però alla linea 109 trovate un altro tipo di leggi che è successivo a livello temporale colui che colpisce un uomo causandone la morte sarà messo a morte colui che in ebraico voi trovate un participio il colpente un uomo causandone la morte sarà messo a morte se notate questa legge però ha un commento molto antico perché è casistico se però non ha atteso insidia ma dio li lo ha fatto incontrare io ti fesserò un luogo dove potrà rifugiarsi c'erano le città di rifugio per gli omicidi che avevano ucciso accidentalmente ma se un uomo aveva premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno allora lo strapperai anche dal mio altare quindi non ci sono città di rifugio per nessuno neanche il tempio di Yahweh e rifugio per costoro il percuotente suo padre o sua madre sarà messo a morte avremo un calo della popolazione il rapiente il rubante un uomo sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua sarà messo a morte il maledicente suo padre e sua madre sarà messo a morte queste sono leggi posteriori alle leggi casistiche prima le leggi casistiche poi le leggi partecipali e infine le leggi apodittiche se voi notate le leggi apodittiche del decalogo sono chiarissime non c'è il caso e non c'è la soluzione giuridica c'è solo il comando positivo o negativo onora tuo padre e tua madre non ucciderai non commetterai adulterio non ruberai non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo e se non lo faccio non c'è niente perché non c'è niente perché il decalogo è l'unico codice fra tutti quelli che vi ho messo dove c'è la premessa se fai esperienza di Dio allora puoi osservare queste cose se non fai esperienza di Dio queste cose non le osservi non puoi osservarle perché solo l'esperienza di Dio ti dà la motivazione profonda per capire che queste cose ti liberano ma se tu l'esperienza di Dio non la fai questo diventa un peso diventa qualcosa che ti soffoca e quindi a questo livello non c'è punizione questa è la logica che sta sotto al decalogo mentre per le altre leggi sono leggi umane e quindi hanno la punizione sociale queste non sono leggi umane queste dipende dall'esperienza religiosa che tu fai vi è chiaro? ma Don Renato è scritto non uccidere no non è scritto non uccidere la traduzione è non uccidere andate alla scheda 4 linea 126 questa è una legge partecipiale siamo uno stadio antichissimo colui che colpisce un uomo causandone la morte sarà messo a morte la parola uomo in ebraico la trovate partendo da destra al secondo posto è la stessa parola che abbiamo visto prima ish e cioè l'ebreo quindi cominciamo col dire che il comandamento nella sua forma più arcaica non ti proibiva di uccidere colui che non era ebreo lo trovavi lo ammazzavi buonanotte non succedeva niente tu non dovevi uccidere l'ebreo e basta gli altri lo potevi fare capite perché non c'è nessun problema a fare guerra non c'è nessun problema ad uccidere lo schiavo non c'è nessun problema ad uccidere una donna nel mondo antico il femminicidio non era niente uccidere un bambino pagavi un'ammenda uccidevi uno schiavo pagavi un'ammenda uccidevi una donna pagavi un'ammenda fine ciò che era importante era l'ish l'uomo il maschio ebreo tu non dovevi l'uomo libero ebreo tu non lo dovevi uccidere questo è il comandamento più arcaico quando il popolo ebraico diventa sedentario cambiano le cose provate ad osservare sempre la linea 125 anche se non conoscete ebraico la prima parola a destra è un participio irregolare quindi chi conosce ebraico questo participio non lo sa decifrare perché appartiene a un verbo irregolare voi conoscete solo i verbi regolari con la sequenza partecipiale o e qui la sequenza partecipiale è a e ma che che vuol dire colpire il colpente provate adesso andare alla linea 128 trovate ancora ebraico la prima parolina si legge lo quella specie di amo iniziale è un lamet il puntino in alto del alef a destra è una o quelle due virgole che trovate sotto l'alef è un accento nelle nostre lingue noi ne abbiamo tre grave acuto e circonflesso in ebraico ce ne sono 42 dopo 40 anni di insegnamento della lingua ebraica io non li conosco tutti lo tirza si legge così la prima lettera quella specie di rettangolo con l'ombellico e il puntino sotto è un tau una t ed è indice della seconda persona quindi buttatelo via quella specie di tettoia che trovate è una r i due puntini sotto sono una e semimuta poi quella archetto di sfiondra un po' malfatto con tutti quegli aggegi lì sotto è una a lunga con l'accento non preoccupatevi e l'ultimo rettangolo incompleto perché manca la base è un ch il verbo è razzach non è più ma che non è più quello di prima è un altro verbo perché nella civiltà sedentaria chi non è protetto abbiamo detto prima bambino è il servo l'uomo libero adulto è protetto dalla legge del sangue che si trova nel capitolo 9 del libro della Genesi chi sparge il sangue dell'uomo abbia il suo sangue sparso quindi l'uomo adulto libero ebreo non ha bisogno di essere protetto perché c'è già una legge umana che lo protegge occorre un altro tipo di legge la legge che viene da Dio e la legge che viene da Dio dice lo tirzach razza vuol dire uccidere colui che è più debole di te quindi lote irzach non vuol dire non uccidere vuol dire non uccidere chi è più debole di te è un'altra cosa quindi protegge la donna protegge il bambino protegge il servo perché tu uomo libero sei già protetto dall'altra legge generale che è la legge del sangue allora quando io insieme con voi vi accompagno nell'esecesi di un testo capite che la prima cosa dobbiamo leggere lo stadio più antico della legge perché questo ci dice tante cose poi leggiamo la nuova formulazione della legge cerchiamo di capire le differenze e ci accorgiamo che il senso del testo è di tutt'altro genere ci siamo l'altro esempio che trovate dalla linea 138 in giù anche questo lascia un po' sconcertati non rubare non significa non rubare ma se noi adoperiamo questo criterio di andare a pescare la legge più antica e vedere i passaggi culturali fino alla formulazione ultima ci accorgiamo che non rubare protegge radicalmente non la proprietà privata ma la libertà dell'uomo perché la formulazione all'epoca nomadica era la seguente linea 147 colui che rapisce un uomo sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua sarà messo a morte questa è la formulazione partecipiana quella più antica ancora linea 143 quando si troverà un uomo che abbia rapito qualcuno dei suoi fratelli tra gli israeliti l'abbia sfruttato come schiavo o l'abbia venduto quel ladro sarà messo a morte così estirperà il male in mezzo a te ma qui capite che il verbo rubare che quello linea 140 la terza parola da destra questo è un participio esattamente regolare go neb il verbo è ganab go neb allora quando si troverà un uomo rapiente qualcuno dei suoi fratelli la formulazione è casuistica o casistica perché quando si troverà che mi dà il caso di uno che rapisce il verbo è ganab se voi andate alla linea 146 nella legge partecipiale trovate sempre il verbo ganab e alla linea 150 buonanotte ho copiato il non uccidere e non ho cambiato il verbo ma comunque c'è non rubare sempre con il verbo ganab invece la stampa della linea 150 è sbagliata a chi non conosce l'ebraico dice e a me non interessa niente ma il verbo è sempre quello allora noi notiamo che inizialmente il comandamento proteggeva la libertà dell'uomo nella legge casistica nella legge partecipiale continua a proteggere la libertà dell'uomo quando si è sedentari noi siamo liberi nella misura in cui siamo autonomi finanziariamente perché quando non sei autonomo finanziariamente non sei libero perciò non sottrarre niente all'uomo se no perde la sua libertà capite la logica e dunque non è la proprietà che viene salvaguardata il valore di fondo del comandamento è la libertà personale piccoli esempi per capire come lavoreremo grazie buona domenica e buona messa